Siamo con Giovanni Fattori, lungo della Fulgore Liberta, la sua prima stagione a Forlì, protagonista positivo nel debutto vincente contro Rado Ligure, due parole sulla partita, sia in chiave di squadra che sul piano individuale. Come squadra abbiamo iniziato a battere la partita, avevamo fatto lui che invada nella squadra, non c'era molto tricolosa sia fuori che soprattutto sotto, ma comunque abbiamo fatto una buona partita perché sono stato in grado di imporre il nostro gioco, il fatto che il campo abbia risultato molto stavo. Abbiamo visto molto attuaggio sulla linea di tre punti, sappiamo che tirare da fuori è una caratteristica, immaginiamo anche che garelli lavori però per convincerti a buttare giù la palla più spessa e andare dentro, è possibile? L'obbiettivo è quello, quindi è giusto abbinare sia la parte esterna del tiro che magari è un gioco interno che mi dà una doppia funzionalità nella squadra. Domenica prossima siete a Vigemano, un campo abbastanza caldo che ha delle questioni sospese sia con la Natura che con Michelon, l'anno scorso fu abbastanza turbolenta, come vi preparate e come vedete questa trasferta? No, come le altre, noi abbiamo un altro aspetto a vincere, è importante, con il campo caldo ci si può anche motivare, quindi andiamo l'altro a vincere. Tu l'anno scorso eri a Montecatini, cosa ci racconti Nicolai? Fa ancora canestro? Certo, sì, un ideale veramente. Ok, grazie.